1, 2, 3, fuck it! Ma dall'altra parte mi ricorda che si può fare lo shopping back to school! Uno dei momenti che aspetto più nell'anno perché io amo fare shopping in particolare di cartoleria. E stamattina sono andata e ho fatto un gigantesco shopping back to school e adesso vi farò vedere le clip nel negozio. Mi è incuriosito un po'? Io sono super excited di registrare questo video perché è veramente il mio tipo di video preferito da registrare e da guardare. La prima cosa con cui iniziamo il whole back to school di oggi è il mio nuovo diario. Quest'anno non ho optato per il solito diario della BU ma ho trovato qualcosa di molto particolare. Nel 2017 sono state negli Stati Uniti e per la prima volta ho scoperto questo tipo di diario bellissimo che è un journal. All'interno ci sono tutti quanti i mesi e se vi ricordate mi seguite da un bel po' ve l'avevo fatto vedere nel haul degli Stati Uniti. Era bellissima e quando sono tornata in Italia e per l'anno successivo ne ho cercata una simile e non ho trovata nessuna. Quest'anno alla Mondadori ho trovato questo bimbo, il mio amore. Guardate che bella questa agenda. È a spirale come quella americana e si chiama Tutto il bello che mi aspetta di Mr. Wonderful. La consiglio davvero tantissimo perché è bellissima e sembra proprio quelle americane. Ha un elastico e all'interno quando la apri tutto quanto in cartone prima si trova un righello super carino, una busta e poi inizia la parte migliore. Gli stickers, guardate che carini. Alcuni li ho già utilizzati per personalizzare all'interno le pagine del diario perché non ho resistito. E questa è una delle mie preferite con Netflix oppure quelli col bradipo, con gli avocado. Sono super super carini. E veramente non finiscono più, ce ne sono tantissimi. Guardate col sushi che carino. E poi, oddio, non finiscono davvero più. Questa non è neanche l'ultima pagina. C'è anche questa e poi questa. La cosa che mi piace di più di questo tipo di diari è che è diviso in mesi. Vedete, settembre per esempio. Apriamo. Ogni giorno c'è una fresetta particolare per iniziare la giornata. E ogni lunedì c'è il consiglio di una canzone. Vedete? Dance monkey, dance monkey, dance monkey. Oh, 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 I've never seen anybody do the things you do before. È veramente molto carina. E rispetto a quest'altra agenda che avevo preso dall'America, aveva soltanto due pagine per ogni settimana. E non c'era spazio per scrivere i compiti. Questa invece ha veramente tantissimo spazio per scrivere tutti quanti i compiti. E la trovo super estetic. Inoltre, alla fine, c'è una cosa super cute. Ovvero, questi bellissimi post-it. Io di solito li aggiungo alla fine dei diari. E invece questa ce li ha già incorporati. Mi conosco troppo bene. Questo era il diario. Adesso postiamo un'altra cosa che non resisto dalla voglia di aprire. Ovvero, il mio nuovo astuccio. Guardate che carino. È olografico. Wow! Allora, è della monocromo. È veramente bellissimo perché è di questo colore azzurrino, lilla, tutto olografico con i riflessi. Bellissimo. Ora dovrei anche staccare questa. È anche molto carino il fatto che sia trasparente perché così all'interno si possono vedere tutte le penne colorate. E probabilmente questo utilizzerò come secondo astuccio dove terrò tutte quante le cose per decorare il diario e gli appunti. Ora vi faccio vedere i quaderni e quando vi dico che mi sa di aver esagerato un pochino, intendo sul serio perché mancavano i quaderni colorati. Quindi mi sono data la pazza gioia e ho comprato un sacco di cose. Partiamo da questi che sono i miei amatissimi quaderni a spirale. Sono tantissimi. I colori sono pazzeschi. Questi qui sono a righe e li ho presi principalmente per le tre lingue che studio al liceo linguistico, ovvero russo, rosso fiammante, questo arancione molto carino che è ovviamente spagnolo e poi questo che è il mio preferito di questo rosa curallo molto carino per inglese. Poi sempre dei quaderni a spirale ho preso questi due che sono a quadretti, blu per matematica e questo verdino smeraldo per fisica. Ho scelto il quaderno a spirale per queste materie in particolare perché scrivo tantissimo in queste materie e quindi mi sono ritrovata a utilizzare più quaderni durante l'anno e ho pensato che avere un solo quaderno per esempio per matematica era molto utile così ritrovavo tutto sempre in un solo posto. Ora continuo a farvi vedere i quaderni perché ne ho presi ancora tantissimi. Allora, quando ho visto questi quaderni ho detto devono essere miei. Siete che bei colori, sono super pastellosi. Adesso ve li faccio vedere uno a uno. Questo poi ho preso, questo qui lo userò per scienze. È a righe ma io mi trovo molto meglio così per tutte quante le materie. Poi questo giallo ovviamente sarà per italiano perché per me l'italiano è giallo. Arancione, questo qui è anche leggermente neon, molto carino. Per storia, questo per storia dell'arte, questo per religione motoria, uno delle due. E questo per filosofia, un secondo per ammirare questo bellissimo colore. Penso sia uno dei miei preferiti. Guardate che bello, si abbina anche i muri della stanza. Questi erano i quaderni per le materie scolastiche. Poi ho comprato un po' di quaderni per piacere personale perché io amo tantissimo imparare lingue da sola a casa, guardando video YouTube, prendendo libri di lingua e iniziando a leggerli. Quindi mi sono presa anche i quaderni per imparare le lingue e ho preso questi qui. Guardate che belli, con tutte le trame floreali. Ho preso questo qui con questi bellissimi fiori rosa e lilla per il tedesco. Mi ricordo un sacco la Bavaria con i castelli, i giardini e i fiori. Poi ho preso questo per il cieco perché i colori mi ispiravano tanto come Praga e la lingua cieca. Questo invece con queste foglie particolari, mi ricordo un po' la lingua portoghese. E questo con tutte le rose mi ricorda la Francia, in particolare Parigi, perché mi ricordo la canzone di Edith Piaf. Queste sono quindi le quattro lingue che mi piacerebbe imparare. Ogni tanto quando voglia cercherò informazioni. Ho già iniziato per esempio col francese ma mi mancava un quaderno dove cercare appuntarmi tutte quante le cose. E adesso finalmente celerò. Quando mi verrà la pazzia di imparare una lingua, magari ve lo farò anche sapere e farò qualche video al riguardo. Al negozio di cartoleria ho trovato questi quadernini super carini, ditemi che non sono adorabili. Sono piccolini! E ho pensato che potevo comprarli per scrivermi tutte quante le nuove parole, espressioni nelle diverse lingue. Per esempio questo qua l'ho preso per inglese, questo per il russo, tutto rosso e carino. Questo qua l'ho preso per spagnolo perché non l'ho trovato arancione, l'ho preso azzurrino ma è molto carino anche questo. Poi ho preso questi due per le altre due lingue che vorrei imparare da sola, che sono appunto questo per il francese perché mi ispira un po' a Francia. E questo invece per il cieco. Dopo tutti quanti i quaderni è arrivato il momento che preferisco, ovvero il momento della cartoleria con le penne e i pennarelli super colorati. Guardate che carini! Adesso prepariamoci per un'ondata di colori. Quanti! Mamma mia! Sono super orgogliosa dello shopping di quest'anno, è veramente super colorato. La prima cosa che vi faccio vedere è questo portapenne fucsia. E l'ho preso perché i portapenne non sono mai abbastanza. Io ce l'ho già azzurro, verde e anche nero, però fucsia è bellissimo. E ci metterò tutte quante le penne nuove perché sono così tante che non so più dove metterle. Cominciamo con le penne. Non vi faccio subito vedere quelle colorate, mi tengo un po' sulle spine. Iniziamo con le penne per scrivere. Io scrivo sempre con le penne blu. Adesso vi faccio vedere queste qui. Sono le penne della standard con la punta stralunghissima. Mi piace un sacco il loro colore perché è tipo un blu molto chiaro. E' un pacchetto da due che ho già aperto perché l'ho provata per fare i compiti per le vacanze. E quindi vi posso dire che scrivono benissimo. Continuando con le penne della standard, ho provato questa penna bellissima blu che non avevo mai visto prima d'ora. Che è piccolina! La punta mi ricordo un po' quella delle bic. Invece il colore è molto simile a queste qui che sono tutte quante della standard. Poi ho preso questa penna blu che è la point ball della stabilo. Il colore non è troppo scuro ma neanche troppo chiaro. E anche questa scrive un sacco veloce. Una cosa che mi piace tanto è che la punta è molto grossa. Quindi quando scrivi, scrive proprio molto morbido. Proprio come c'è un nome. Passiamo alle penne della Bic, che è la mia marca preferita per penne da scrivere. Allora ho preso queste tre penne. Dove sono quelle particolari, multicolor? Questa qui è molto particolare, non l'avevo mai vista prima. Che ha i soliti tre colori. Quindi blu, nero e rosso. Ma poi ha anche il giallo fluo. E' fantastica! Io avevo comprato la penna della Bic gialla fluo, che sono quelle che hanno la punta un po' più grossa. Però non l'avevo mai vista all'interno di una penna multicolor. E ho pensato che fosse un'idea super carina, per questo l'ho presa. E poi questa classica, perché la utilizzo sempre per scrivere. Le trovo molto comode, perché mentre scrivi puoi subito cambiare il colore per fare titoli, sottolineare. E poi la particolarità è la parte inferiore, che è tutta dorata, con delle macchioline in rilievo. E' molto carina. E non l'avevo mai vista anche questa. E infine ho preso una di queste penne a click, che proprio le amo alla follia. E' verde, e è la classica penna della Bic che scrive blu. Ci sono anche quelle nere, ma ovviamente il blu ha la supremazia. Spero che anche voi siete team blu. Hashtag team blu. Scrivetemi qui sotto nei commenti se utilizzate la penna nera o blu per scrivere. Passiamo gradualmente alle cose un po' più colorate. Ho preso queste tre penne, che sono della Paper Mate e sono della linea Ink Joy Gel 07. Sono bellissime e scrivono in una maniera fantastica. A differenza delle altre penne a gel, non sbavano affatto. Ho preso questa qui, che è di questo color verde acqua, e mi mancava. Poi ho preso questa qua, che mi era finita, è di questo rosa lilla, molto carino. E poi ho preso questo verde e finalmente scrive. Io sono di una sfortuna pazzesca e ogni volta che ricompravo questa penna l'ho comprata due volte e due volte di seguito non scriveva mai. Meno male che questa volta scrive e posso finalmente utilizzarla. Prima di farvi vedere tutti quanti i pennarelli colorati, aspettiamo un po' che vi faccio vedere tutte quante le cose che bisogna avere in un astuccio. Quindi una matita, io la prendo sempre in meccanica, mi piace tanto perché non devo stare là a temperarle ma basta che cambio la mina. Questa mina è di 0,5, quindi la classica, molto fina e la trovo super comoda. Poi ho preso una colla, non c'è niente da dire, è una colla della Pritt. Poi questo righellino molto carino, tutto trasparente, lilla, da 15 cm, anche questo abbastanza ordinario. Poi ho preso due bianchetti, sbianchetti, scolorine a strisce. Quest'anno mi sono trovata meglio con quelli a striscia perché vai direttamente sul punto e non devi aspettare che si secchi. Poi ho preso due gomme e vi faccio notare una cosa, la carta della gomma è più particolare, carina, con i disegnini. Non so se sono l'unica che lo fa ma ogni volta a metà anno più o meno strappo la carta, le maltrato, le pugnalo con la matita. Sono super carine e io vi sicuro quest'anno non le rovinerò. Mentre ero nella sezione pennarelli ho trovato questi pennarelli a punta fina della Standler che non avevo mai visto prima d'ora e sono molto particolari. Allora, ho preso questo rosa, vi faccio vedere la punta. È un rosa molto particolare, non è nel solito fucsia. Poi ho preso questo qua che è un magenta perché è tra il rosso e il rosa. E poi ho preso un classico pennarello a punta fina blu. Dalla sezione stabile ho fatto una strage. Volevo ricomprare alcuni colori che avevo già e che si erano un po' rovinate sulla punta. Però ho trovato dei nuovi colori che non avevo e io ho detto E che fai, te ne privi? No! Ho preso tutti quanti i colori nuovi, a parte un lilla che mi è scappato e non l'ho trovato. Devo andarlo a ricomprare più avanti. Ho preso tutti quanti i colori nuovi della nuova linea, più altri colori che mi mancavano. Allora, sono super carini, guardate. Allora, c'è un verde pistacchio che è diverso rispetto a quello che c'era già perché è leggermente più scuro, anche se dal packaging non si nota. Poi questo bellissimo rosa cipica che è molto tenue ma super carino e si riesce anche a vedere quando scrivi. Soltanto non consiglio di fare titoli ma magari le ombre dei titoli, degli appunti. Poi questo lilla, più scuro rispetto al lilla che c'è già nella linea di stabilo. Poi c'è questo bellissimo color tiffany e anche questo mi sembrava uguale a quello che c'era già nella linea stabilo ma in realtà è diverso perché è leggermente più scuro e va sul grigio. Poi questo che è un ocra molto chiaro. Poi questo verde militare che è bellissimo. Poi ho preso questi due che sono molto simili solo che questo è un rosa che va più verso il fucsia mentre questo va più verso il corallo, verso l'arancione. Poi sempre della stabilo ho comprato questi cinque colori che mi mancavano e sono questo arancione, molto carino e autunnale. Poi questo bordeaux che avevo soltanto in versione punta fine e mi mancava. E lo stesso con questi tre. Questo è un pesca, questo è un blu che va sul viola e questo qua è un azzurro nuvola. Comunque questi qua sono tutti quanti gli stabilo 68 quindi sono quelli con la punta grande. E mi sarebbe piaciuto prendere anche quelli con la punta fina della nuova edizione ma non li ho trovati e quindi li andrò a cercare la prossima volta. Per quello della stabilo ho comprato questi quattro pennarelli che sono i brush pen. Non sono dei brush pen normali perché sono acquarellabili quindi una volta che scrivi con la punta puoi bagnarli con l'acqua per distribuire il colore. Guardate la punta che bella! Non avevo mai preso delle brush pen fino ad ora però mi sono assolutamente pentita di non averlo fatto prima perché sono bellissimi. E poi la stabilo ha un sacco di colori particolari. Io ho preso questo turchese, arancione, rosso per i titoli, questo spaccherò secondo me. Poi questo viola e questo verde lime che è bellissimo. Poi, sempre della stabilo, ho preso altri evidenziatori swing cool che mi mancavano. Sono le quattro tonalità che sono uscite l'anno scorso nuove e non avevano fatto i swing cool, adesso li hanno fatti e li ho presi. Erano tutti in un pacchetto ma li ho già aperti quindi ve li faccio vedere così. Questo qui è un verde lime, poi c'è questo bellissimo color ciliegia, fantastico, verso il rosa. Questo arancione come il pennarello che vi ho fatto vedere prima, l'ho fatto apposta così si abbinano, molto autunnale. E questo qui che è un azzurro nuvola. L'ultimo pennarello che ho preso è questo qui della Paper Mate che è della linea Flare Medium. Mi mancava perché l'avevo perso da qualche parte e quindi l'ho ricomprato. È molto carino come colore perché è più chiaro dell'azzurro normale ed è perfetto per sottolineare uno dei miei colori preferiti. Concludiamo il video con i post-it, non potevano mancare perché io adoro i post-it. Ho preso questi qua rosa pastello della Scatto, poi ho visto questi qui giganti che sono multicolor. Praticamente ci sono quelli rosa pastello, quelli corallo, quelli fucsia e quelli rosa scuro neon. Bellissimi, veramente top. Quindi ho pensato che sarebbero stati perfetti per la mia scrivania. Poi ho preso questi gialli, qui c'è molto più spazio per scrivere. E poi ho preso questi che sono i segnapagina, che non possono mai mancare. Sono super super comodi. Sono super carini, il mio preferito è questo fucsia che non l'avevo mai visto prima. E questo era tutto quanto il mio whole back to school! Sono super contenta di questo video, veramente mi piace troppo registrarlo. E questo è soltanto il primo di tantissimi video back to school che farò da oggi fino al primo giorno di scuola. Vi lasciate un bel like. Iscrivetevi al mio canale per non perdervi altri video back to school. Se volete scrivetemi qui sotto nei commenti cosa vorreste vedere a tema back to school. Magari video dove consiglio cose sul liceo linguistico. Oppure che cosa c'è nel mio zaino. Sono sempre aperta a nuove idee. Quindi se volete commentate qui sotto con altre idee per il video back to school. E noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao! 1, 2, 3 Fucca!